aiuto per i compiti supporto per lo studio esercizi interattivi video lezioni mappe concettuali corsi di lingue giochi educativi e un team tutor online sempre a disposizione su mai edu trovi migliaia di risorse digitali su tutte le materie e per tutti gli anni della scuola dell'obbligo con mai edu l'apprendimento è una bella avventura grazie